Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Belen Rodriguez è tornata sui social e le sue parole non sono passate inosservate. Avvistata in una clinica a Padova negli scorsi giorni, ieri la showgirl è stata notata a Milano. Degli spostamenti che avevano messo in allarme i fan, preoccupatissimi per le sue condizioni di salute. Poco fa la subretta argentina ha deciso rompere il silenzio. Sui social Belen Rodriguez ha scritto su Instagram, riferendosi ai fan. Mi mancate? Mi siete mancati tanto? Un ritorno che ha tranquillizzato i tantissimi followers della showgirl che da settimane si domandavano come stesse e a cosa era da addursi il suo silenzio su Instagram. Belen si è mostrata sorridente, ma con gli occhi un po' stanchi. La showgirl si è finalmente mostrata in un video e questo è stato sufficiente ai suoi fan. Tuttavia, non è ancora chiaro come stia Belen e se il suo ritorno sui social è permanente.